La cosa più difficile è far diventare questo gruppo di 25 persone una squadra. Vieni per vincere, non vieni per partecipare. Noi più vecchi ogni anno ci giochiamo tutto per tutto. Devi far capire a chi arriva il fatto di essere una famiglia. Mi piace avere le responsabilità, mi piace essere sotto pressione. Qualcuno, anche qui dentro, non ha dato tutto quello che poteva. È un anno durissimo. Prima vita della vita, non vinciamo un contrasto. Le ambizioni sono sempre le stesse. La verità non importa. Dimostrare di essere ancora vincenti dopo una stagione così tumultuosa dovrebbe dire che la mentalità della Juventus è una mentalità unica. Grazie.